Colpi di scena ieri sera durante il Consiglio di Amministrazione dell'ente carnevalesca. La riunione è iniziata con le dimissioni, giustificate da motivi di lavoro dei due vicepresidenti, Luca Danti, che rimarrà comunque consigliere, e Maria Flora Gianmarioli, che si è resa disponibile per aiutare in futuro il direttivo. Al loro posto sono stati eletti Alessandro Leonelli e Nino Bonazzelli, invariati invece il segretario Giorgio Tonelli e l'amministratore Paolo Vicini. Più tardi è stata la volta di Luciano Cecchini a presentare le dimissioni. Il presidente è deluso e ammareggiato per il fatto che il carnevale estivo, un fiore all'occhiello della città della fortuna, quest'anno non verrà organizzato a Fano per mancanza di fondi, ma intanto la vicina Pesaro ha pensato di idearne uno tutto suo. Un po' di maretta, alcune cose da chiarire, che mi hanno pesato, mi hanno pesato molto, perché veramente mi costa un gran sacrificio tirare avanti la carnevalesca, che ripeto ancora una volta, tutti e 18 lo facciamo completamente gratuito e senza il minimo rimborso spese. Quindi lo facciamo per amore del carnevale, che è l'unica grande manifestazione della città, che si identifica con Fano. Dopo un'accesa discussione e alcune riflessioni all'unanimità, Cecchini è stato rieletto presidente, una grande stima quindi riconfermata da tutti. Il carnevale estivo si farà o non si farà? Con grande dispiacere devo dire che nel programma edizione 2000 estate 2015 è stato tolto, ma per dare spazio, a un'altra grande manifestazione, che era la Fano dei Cesari. Purtroppo gira misto in broglia, come si dice, non si fa la Fano dei Cesari, non si fa niente in questo periodo, ma si perde anche la vitalità di un carnevale promozionale estivo legato ai quattro cantoni. Per quello che so fino ad ora, sembra che i cantoni vengano gestiti direttamente con i tavoli e le sedie direttamente dai ristoranti, quindi la carnevalesca si è tirata indietro in questa forma dei cantoni e per quanto riguarda il carnevale estivo, penso che bisognerà aspettare il 2016, salvo che qualche ripensamento ci potrà essere. Il carnevale sul lungomare di Sassonia, più l'iniziativa in sinergia con i quattro cantoni, sarebbero costati in totale 25 mila euro, ive inclusa, e pensare che l'amministrazione fanese ha deciso di aumentare di 30 mila euro il contributo al Fano Jazz per un totale di 100 mila euro, una decisione alquanto contestata anche dall'opposizione fanese, ma la carnevalesca comunque non si perde d'animo e guarda avanti. Che dire, abbiamo tutti gli ingredienti, stiamo lavorando lunedì 20 il direttivo per decidere una grande festa dei mille soci. Mai dire mai può darsi che di mezzo troveremo anche i carri di carnevale. Buon carnevale a tutti i fanesi.